Sono molto gravi le condizioni di un operaio nisseno di 44 anni, rimasto ustionato a causa di un incidente sul lavoro avvenuto nell'azienda agricola di Contrada Grotta Rossa in cui lavora. L'uomo è adesso ricoverato al centro grandi ustioni di Palermo dopo che le fiamme hanno avvolto circa il 90% del corpo. In base a quanto emerso finora, l'uomo stava rifornendo di carburante i mezzi di proprietà dell'azienda. In quei frangenti sono divampate le fiamme che hanno avvolto lo sfortunato operaio, il quale è stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno cercato di estinguere il rogo e poi si sono dati da fare per accompagnarlo in ospedale. Nel frattempo è sopraggiunta un'ambulanza del 118 e una volta che il paziente è arrivato in ospedale i medici del Sant'Elia hanno subito disposto il trasferimento a Palermo vista la gravità delle condizioni. Sul caso stanno adesso indagando i poliziotti della questura di Caltanissetta per capire l'origine del rogo. Grazie. Grazie.